Eccolo il generale Cotticelli nel suo primo giorno in Calabria da commissario per il piano di rientro. Incontra i giornalisti e chiarisce subito qual è la sua mission. Io sono figlio del popolo. Al popolo bisogna dare la salute e la dignità. Se non c'è salute, diritto alla cura, non c'è dignità. Parole pesate quelle del generale del giorno dell'esordio in terra Calabra. Ho lavorato in Sicilia, in tutta Italia tranne che in Calabria. Impatto gentile, risposte precise, mai una frase fuori posto. Il generale è cauto anche quando gli viene chiesto del lavoro svolto dal suo predecessore. Ripete più volte di essere un carabiniere e come tale assolutamente ossequioso della legge. Ho fatto il carabiniere per 47 anni nella mia vita. Ho girato tutta l'Italia, sono stato all'estero, in zona di guerra. La sfida, ma la cosa bella è l'idealità che c'è sotto questo incarico, cioè dare diritti alla gente. Prima di prendere possesso del suo nuovo ufficio ha fatto visita in procura. Sono già stato ad otto gratteri. Misurato e attento, il generale nel primo impatto con la Calabria, anche se qualcosa di sibillino, la mette in circuito. Spesso dove c'è inefficienza c'è illegalità, però non lo posso ancora affermare perché non conosco le carte.